Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, un ingenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponsi Milano, morì e fu secolo. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risulenzione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Inoltre, accolgo e professo tutte singole le verità che circa la dottrina sulla fede e sulla condotta sono state dalla Chiesa sia definite con giudizio volente, sia assedite dichiarate con magistero ordinario, come vengono da essa proposte, soprattutto quelle che riguardano il mistero della Santa Chiesa di Cristo, i Suoi sacramenti e sacrificio della Messa, come pure il primato del Romano Montefice. Grazie. 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 Nel cuore pulsante di Soverato si è svolta una celebrazione memorabile che ha radunato autorità civili, militari e religiose, così come l'intera comunità. Questo momento di unione e gioia ha segnato l'insediamento ufficiale di Don Natalino Carandente come nuovo direttore dell'Opera Salesiana. La liturgia solenne non si è limitata a celebrare Don Carandente, ma ha anche reso omaggio a Luigi D'Antone, il quale ha assunto il ruolo di nuovo incaricato dell'oratorio, figura fondamentale per la guida spirituale e giovanile della comunità salesiana. La partecipazione di Brant e di Fedeli ha testimoniato quanto significativa sia la presenza salesiana soverato, un punto di riferimento per molti. La presenza delle autorità, inclusi i rappresentanti locali, delle forze armate e delle istituzioni religiose, ha dimostrato l'importanza del legame tra la Chiesa e la società civile. Il loro supporto ha concretizzato un forte segnale di collaborazione e di impegno comune per il bene del territorio. Momenti di condivisione e riflessione si sono intrecciati in una cerimonia che ha sottolineato il valore della continuità e del rinnovamento nell'Opera Salesiana. Le parole ispiratrici di Don Giampaolo Roma hanno infuso speranza e determinazione, invitando tutti ad un impegno corale per il futuro. La celebrazione a soverato non è stata solo un passaggio di consegne, ma anche una promessa di crescita e sviluppo per l'oratorio e l'Opera Salesiana. Un'occasione che ha visto la comunità unita, pronta a sostenere i suoi nuovi leader spirituali e a camminare insieme verso un futuro luminoso. Don Natalino Carandente, nuovo direttore dell'Opera Salesiana di Soverato, benvenuto in città. Cosa ci dice un primo impatto? È una bella città, con tanta gente accogliente, buona, disponibile, che si mette al servizio e questa è la prima cosa che ho notato venendo qua. Ecco, c'è stata una partecipazione numerosissima delle persone che ringrazio di questa vicinanza e anche una forma di incoraggiamento per me. La vostra principale missione in questi tre anni quale sarà? Ecco, vediamo di studiare insieme un progetto per camminare insieme e vedere quali sono i bisogni e le necessità del Paese, soprattutto dei giovani. Un saluto a tutti i telespettatori e ringrazio tutti i cittadini che mi hanno accolto calorosamente. Grazie. Questa sera è stata davvero una serata molto bella in cui sono stato molto contento di vedere tutta la comunità compatta nell'accoglienza del nuovo direttore. È stato sicuramente un momento bello di famiglia, è stato bello vedere non solo tanti cittadini di Soverato, ma anche tutte le autorità civili, politiche, militari e anche religiose. C'erano anche le nostre consorelle. È stato un momento, come dicevo, di famiglia in cui abbiamo provato a guardare insieme al futuro, col desiderio che i salisani possano continuare a essere la storia di questa città, così come sono stati in passato. E dicevo che sarà importante provare a farle questo assieme, ecco, le vicende che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi, le fatiche che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi, ci hanno dimostrato come solo nel dialogo, nella collaborazione, nella costruzione di una rete forte, leale, concreta, possiamo affrontare le difficoltà e possiamo provare a dare delle risposte che siano efficaci e possano permettere di continuare a scrivere una storia bella insieme. Grande festa, grande accoglienza. Qual è la tua missione per i giovani che ti hanno mandato? Allora, la mia missione è salva a tutte, innanzitutto. La mia missione è formare buoni cristiani e onesti cittadini, come ci ha insegnato il nostro padre Don Bosco, e soprattutto valorizzare i giovani che arrivano qui in oratorio. Questo è formare buoni cristiani e onesti cittadini, portarli sia all'incontro con Gesù, e soprattutto interessarsi anche alla cittadina. Hai già qualche progetto, qualche idea per il futuro dell'oratorio in questi tre anni? No, per il momento sto un po' dialogando anche con il mio superiore, con anche il delegato di PG, della passione giovanile, però ci sono tante cose belle da mettere in atto per i nostri giovani che arrivano qui. Un saluto, un ringraziamento? Un saluto un po' a tutta la cittadinanza di Soverato. Io sono fatto la formazione qui negli anni di tirocinio, qualche anno fa, e quindi conosco i cittadini di Soverato, sono molto generosi, e quando mi è stato chiesto di ritornare qui a Soverato, io sono stato subito felice perché qui mi sento, tra queste persone, qui con voi, mi sento custodito da Dio insieme a voi.